Buonasera, senti io ho acceso la pipa e sto fumando praticamente da mezz'ora pensavo dovesse riscaldare, in realtà praticamente non sento calore assolutamente sulla pipa se non minimamente, non mi sta dando nessun problema di acqua e rugiola praticamente e devo dirti che la fumata è più rilassata perché ovviamente non devo pensare a queste problematiche e soprattutto devo dirti che finalmente stasera sto fumando un sembruno sono riuscito a capire che cosa voi altri intendete per sopi, quindi è veramente veramente eccezionale penso che fra qualche tempo ne prenderò sicuramente un'altra ti ringrazio e niente, grazie veramente per la tua disponibilità e per quello che sei riuscito a fare con queste pipa